ma sta bene allora qua è arrivato il bomber il bomber del Genoa del Milan, della Roma eccolo laggiù in tutta la sua carriera ha fatto 33 gol questo è il bomber nostro oggi mi hanno detto che assomiglia a Rambo è Rambo di Tuono stanno parlando di Stalloni per fare Rambo Sette stai sentendo, stai facendo lo so è questo Rambo Sette tutti parlano di Fabio io sono più forte di lui non più forte di quell'altro cosa c'è? allora c'è Bufon Bufonino allora ho sentito una frase io leggo il colpo non dico chi l'ha detto no no il colpo no io leggo il corpo anche io leggo il colpo spiegala Marco quando uno si mette così mi sta per schiacciare e io lo leggo mi metto a metà strana quando uno lo leggo il colpo che c'è io ce l'ho spero che l'ha detto il boccetto si è a metà strana l'acqua siete emergiti quello che lui dice però ti dico il mio hobby io faccio tutta di fare stonna a fare tutta di parete tu però quello che gioca a sinistra copre il colpo di su non posso dire cosa è riprendendo quello vai ma che sta a fare la recita va a riprendere